Vale, cambiamo totalmente argomento perché è arrivato adesso il momento della rubrica di Silvia Pagni, stiamo parlando di Biglietto da Visita. Bentornati cari telespettatori nella nostra rubrica Biglietto da Visita. Oggi abbiamo un ospite speciale, particolare, elemento di un gruppo che ha fatto innamorare veramente tutti. Ha lavorato insieme anche a Lucio Battisti, Mogol, Ornella Banoni, Leo Liuttazzi e tantissimi altri. Vado subito con la domanda di Rito. Gentile ospite, mi sente? Ti sento, ti sento. Diamoci del tuo, gentile ospite. Va bene, sarà un po' difficile. Ci sveli il suo biglietto da visita? Allora, innanzitutto io nasco a Milano in un quartiere dove i miei compagni di infanzia erano Lallo, che è poi la voce del Dic Dic, Cocchi Ponzoni, che era il mio compagno di classe terza elementare, dove io sono stato bocciato perché sono sempre stato un sognatore, poi Moni Ovadia, Ricchi Gianco e Aldo Reggiani, quello che ha fatto la Freccia Nera, una cosa, un meunga. Nasco non con l'idea di fare musicista, assolutamente. Mia madre mi racconta che io a sette anni vivevo, vicino a noi c'era la campagna, le mamme hanno avvisato mia mamma che ero andato. Lei mi ha raccontato che io avevo un sacco in spalla e stavo andando. Mi ha raggiunto e mi ha detto, ma sto andando a vedere il mondo. Quindi il mio sogno era quello di fare l'esploratore. Poi con una serie di circostanze particolari, ovvero con una perseveranza sono riuscito a fare il primo provino e poi nel secondo è successa una cosa importante che adesso ti racconterò e abbiamo fatto il contratto con la Ricordi. Ecco, prima di raccontare tutta questa storia, il nome e cognome? Mi chiamo Pietruccio Montalbetti e sono il fondatore di questo gruppo insieme a Lallo. Sono io che ho mosso tutte le macchine per far funzionare questo. Però sapevo di avere a che fare con una voce bella che era quella di Lallo e quindi mi ho detto, faccio una metafora. Lallo è come uno stradivario, un grande violino che tutti conosciamo che però se è messo lì e nessuno lo suona diventa un violino qualsiasi. Io sono stato l'archetto che ha fatto funzionare questo stradivario e quindi abbiamo venuto. Noi qualcuno dice che siamo la band più longeva d'Europa insieme a Rolling Stone. Infatti abbiamo 61 anni di vita musicale, qualche milione di disco, non so quanti, ma diversi. E continuiamo. Ci chiamavano gli impiegati della canzone perché, a parte uno che fumava due pacchetti al giorno, che poi è quello che è morto, che ci dispiace, il nostro compagno Pepe, ma noi non abbiamo mai fatto uso di, io non ho mai fatto uso di droghe, fumo, superalcolici, ho sempre fatto attività di palestra. Io non amo il calcio ma faccio palestra, ho fatto karate, ho fatto judo, ho fatto sci, ho vinto campionati di sci, di Norris, insomma ho fatto tante cose. E continuo a fare questa cosa per il gusto di farla, però nel frattempo ho già pubblicato sette libri e ne ho altri cinque da pubblicare. Studio astrofisica, astronomia, filosofia e guardo poco la televisione. Questo è, diciamo, il sunto. È pazzesco. È pazzesco quello che fai. No, è normale quello che fai. Io dopo i primi anni di grandi successi ho detto ai miei compagni, ragazzi, io il mese di dennaio non ci sono. Dove vai? Non lo so. Ho preso un sacco e ho cominciato a fare il mess, ho fatto lo Yucatan. Poi mi sono addentrato nel messo in Guatemala durante una guerra civile e quindi ho dovuto superare per arrivare a Tikal e quindi ho studiato tutta la cultura maya e poi sono stato in Peru, ho scattuto gli antichi cammini in England e ho fatto tante cose, tantissime. Bene, e continuo a farle, eh? Deve continuare perché vita, questa ti terrà sempre giovane, è bello come sei. Ma la domanda un po' che incuriosisce un po' tutti, perché di chi è che non conoscono questo gruppo meraviglioso, ma come è nato questo gruppo? Allora, questo gruppo è nato perché io avevo fatto nel quartiere un gruppo che si chiamavano i Dreamers, però sentivo il Lallo, eravamo compagni d'infanzia, che cantava come un disperato. Allora ho licenziato tutti e ho detto Lallo, vieni qua, diventi cantante tu. Dopo un po' è arrivato un tizio e ha detto ragazzi io, c'era io, Lallo e Pepe, quello che è morto di Covid, è arrivato uno e ha chiesto ragazzi sentiresti di fare un tour estivo con una che si chiama il mare, vi chiami il nome in squali. Abbiamo durato cinque o sei serate, poi ho detto ragazzi questo qua non ci piace, aveva fatto mille anni di me, aveva fatto il festival di Sanremo, non mi piace. Allora, io cercavo lavoro, ogni volta che trovavo un lavoro, poi dopo un po' mi licenziavo, perché sono insofferente, non riesco, devo fare delle cose. Ero il più libero di tutti. Lallo faceva l'odonto tecnico, il Pepe lavorava in banca e gli altri due che poi sono interlasciati facevano l'università. Allora, io andavamo a provare nella chiesa del Rosario e volevamo fare, nel periodo dei complessi, volevamo diventare anche noi un complesso e fare un contratto discografico. e andavo spesso nel negozio della Ricordi, dicevo al negoziante, ci fate fare un provino? E lui diceva, no, io non so come fare, non sono i piani di sopra, così. Però avevo scoperto una cosa, che la Ricordi procurava gli organi da chiesa alla curia, a tutta la curia. Nel frattempo, noi andavamo a provare nella chiesa, nell'oratorio della chiesa del Rosario, dove il vice parroco, Don Angelo, so che aveva fatto il seminario insieme all'allora segretario del Cardinal Montini, che poi è diventato Paolo VI. Nello stesso periodo, mio fratello Cesare, che poi è diventato il fotografo ufficiale di tutte le copertine più belle di Lucio Battisti, lavorava di giorno come segretario del segretario nell'arcibio Scovado e di sera andava all'istituto Feltrinelli. Allora, ho fatto interpellato sia Don Angelo che mio fratello, perché non ci facciamo fare una raccomandazione? Difatti dopo un po' è arrivata una lettera di raccomandazione che diceva «Raccomando questi ragazzi, dal loro Cardinal Montini, perché sono dei bravi parrocchiani». Penso che io… non parliamo di religione. Infatti sono andato là, il negoziante ha visto questa lettera e ha detto «Què è un cliente molto buono questo qua». E ha andato ai piani di sopra e ci hanno fatto un primo provino. Mi ha fatto un primo provino che è andato bene, c'era Ilio Pataccini che era direttore artistico, mi ha chiamato e mi ha detto «sì, ci piace, però vorremmo farne un altro». Arrivo nel secondo provino. Allora non c'erano delle studi di registrazione, c'era il cinema parrocchiale di Via dei Cinquecento, dove la domenica facevano il film e durante la settimana si spostavano delle cose e si faceva una specie di studio, ma era molto primitivo. Allora io avevo la Cinquecento, una volta al cinema si fumava, no? E quindi avevano aperto tutte le porte per far defluire il fumo. E io sono arrivato mezz'ora prima dei miei compagni. Sono entrato nel semibuio e ho sentito il suono di un pianoforte. Mi sono avvicinato e ho visto un ragazzo che mi è piaciuto subito come mi fa «Ma tu sei un tecnico?» «No, io faccio parte di un complesso, adesso… e tu?» «Ma io mi chiamo Lucio Battisti e faccio un'orchestra e sono qua per fare un provino». Va bene, arrivano gli altri, facciamo il nostro provino e lui mi dice «Gli altri vanno via, io sto per andare via, perché noi abbiamo finito, i tecnici anche dicono «Volete voi uscite?» No, lui mi dice «No, senti, se tu stai qua con me, io sono venuto qua in tram dal centro, se tu sei qua con me, poi sei la macchina e mi accompagni». Va bene, dai, avevo… sai che l'empatia è differente dall'antipatia. Empatia è una cosa, io guardo negli occhi le persone e mi piacciono o non mi piacciono. Quindi siamo stati lì a chiacchierare e dopo un po' mi dice, mi ha sempre chiamato «Abedru, ti faccio sentire, lui è di Rieti, no? Ti faccio sentire le mie canzoni?» Eh, fammeli sentire. Ho fatto sentire delle canzoni che non erano quelle, erano delle medie cioffè che mi fanno «Ti piacciono?» «Sì, sì, bello, bello». Però tra me e me ho detto «Poverazzo, questo qua andrà a fare il posteggiatore, cos'è che faccia?» Ecco, poi l'ho accompagnato, era il 1966, era ottobre, l'ho accompagnato in centro e gli dico «Cosa fai adesso?» «No, adesso andiamo in Europa a fare un tour con l'orchestra». Il cantante era Robby Matano e lui suonava «Se vuoi stasera vieni giù?» No, poi scompare. Noi facciamo il contratto con la Ricordi, il nome di Glic l'ho trovato io perché in quel momento stavo leggendo un libro di Thor Ayerdal, che voleva dimostrare che i popoli del Sud America avevano colonizzato le isole del Pacifico. e nello stesso tempo c'era scoppiato un vulcano, il Krakatoa. E quindi ho detto «Ma mi piacerebbe trovare un nome, dovevamo trovare un nome, il quale non ci piaceva, un nome con delle consonanti che non sono usuali nella nostra lingua». Aprendo un vocabolario ho visto «Dic-Dic, Dic-Dic, nome di antilope africana». Allora telefono i miei compagni e dico «Ragazzi, il giorno dopo dobbiamo fare il contratto». Telefono i miei compagni e dico «Ragazzi, ho trovato il nome?» Allora io ho un tecnico che lo fa a casa e ho scritto quello che è ancora il logo di adesso, il nome di Dic-Dic. Poi sono arrivato con il mio foglio, c'erano gli avvocati, c'erano tutti l'amministratore delegato. Siamo entrati nella sala dell'Unione e ho detto «Ragazzi, signori, potrete uscire?» «Ma uscite per favore, perché uscite!» Sono usciti tutti, avevo preso questo grande foglio, avevo attaccato su un muro con dello scotch e delle cose. Sono entrati e sono rimasti tutti esterifatti. C'è stata una segretaria che ha detto «Bellissimo, avrà successo!» Dic-Dic. Tra l'altro, Dic-Dic, perché si chiama Dic-Dic? Perché durante il periodo delle cacce africane, degli inglesi che andavano a caccia in Africa, io sono stato tre volte in Africa, ho attraversato l'Africa, il Sahara o l'opera. Intanto incontravano dei piccoli animali che per chiamarsi facevano questo verso «Ic-Ic» e li hanno chiamati Dic-Dic. Dic-Dic, questo è. Poi arriva il 29 dicembre, il 24 dicembre del 1966. Io attraverso Piazza del Duomo, erano passati dei mesi da quando avevamo incontrato questo Lucio, e mi sento tirare la giacca e mi fanno «Vedru, ti ricordo di me, sono Lucio!» «Ciao, ma cosa fai qua?» «Ma domani è Natale, cosa fai?» «Beh, niente, io, se mia mamma è a Roma, io non posso andare a Roma, suoniamo stasera, anzi, vieni giù stasera al night!» E dico «Vabbè, vedremo, io non ero mai stato in un nightclub!» Allora vado a casa da mia mamma e gli dico «Mamma, sai che ho incontrato questo ragazzo? Gli avevo parlato di questa simpatia» e lei mi dice subito «Tu non puoi lasciare un ragazzo il giorno di Natale da solo, cioè lui non puoi, quindi tu adesso vai giù a questo posto dove suona e lo inviti a pranzo, arrivo giù, a night, vedevo tante donnine che giravano, ma io ero un po' ingenuo, no, lo vedo, come mi vedi lui c'era i calcioli neri, la giacca rossa e la sua Fender era il primo, poi c'era il trombone, c'era il contrabbasso, c'era il pianoforte, c'era Robby Matano che cantava, sai che adesso la Movida, io abito in una zona di Milano, dove, abbastanza in centro, dove qua, tu arrivi alle quattro di mattina, c'è gente ancora in giro, quando arriviamo ieri notte, siamo arrivati da un concerto, erano le due, io ho preso la macchina che ho lasciato in un posto dove noi ci raduniamo per poi prendere un'altra macchina e arrivare, e una volta la Movida a mezzanotte alla una finiva, allora finisce tutto, e viene il mio tavolo, ti è piaciuto l'orchestra? Sì, trovi a me, dicevo, boh, dico guarda che mia mamma ti ha invitato, no, sì, no, sì, no, sì, no, alla fine, gli ho detto, guarda dai, Lucio non puoi stare il giorno di Natale per conto tuo, e difatti mi fa, vabbè, accompagnami, vediamo, lo accompagno in una pressione molto squallida, me lo ricordo ancora, molto squallida, c'era una scritta in blu che diceva, c'era ne un, diceva, qui non si possono, non possono entrare né cani e neanche donne, dico, allora prima gli dico, guarda Lucio ti vengo a prendere, no, 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 non ha voluto che lo dimmi come, allora gli ho detto, devi pigliare il 15, scendi, vai, gli ho detto, arrivi via Stendal, 65, vieni al terzo piano e ti aspettiamo franzo, di fatto è arrivato, a mezzogiorno è arrivato con un fiasco di vino, mia mamma, noi facevamo il presepio, no, mia mamma gli aveva preparato anche un paio di guanti di lana nel presepio, l'ha accolto come un figlio, no, e gli è rimasto tutto il giorno, ma c'è anche una bella storia da raccontare, perché a un certo punto sai che non c'erano i cellulari, eravamo il telefono, noi vedevamo il telefono, adesso lo guardiamo il telefono, no? Allora a un certo punto mia mamma dice, senti Lucio, lui la chiamava mamma, poi per tanto tempo l'ha sempre chiamata mamma, mia mamma, perché sai, dammi il numero di telefono in casa tua, allora lui gli ha dato il numero di telefono, ha telefonato, ha parlato con sua mamma e gli ha detto, guarda il suo figlio è qua, sia tranquillo perché è qua in buone mani, grazie, poi gli ha detto, guarda Lucio c'è tua mamma, allora io sentivo, lui piano piano mi diceva, mamma non piangere, non piangere, cioè la sua mamma era emozionata a giorno di Natale, lui era molto affezionata, mamma Dea che io ho conosciuto, no? E non piangere, non piangere, poi è rimasto lì a pranzo, poi anche alla cena, poi ha levicato e lui aveva preso una, poi lo ha accompagnato nella pensione, poi lui ha fatto un contratto con la Ricordi, ma ormai c'è qualcuno che dice che l'ha scoperto, l'unico che aveva scoperto, che aveva capito la sua potenzialità, io no, era un certo Robi Matano, morto due mesi fa, che era il cantante dei campioni, poi è andato alla CGD, l'ha portato alla CGD, la CGD non l'ha voluto, l'ha portato alla Ricordi, e Mogol che io, vabbè, lasciamo perdere, non ho un gran feeling con Mogol per motivi miei personali, gli ho detto, vabbè, a me non mi piace quello che stai facendo, però stai qua che vediamo un po' di fare qualche cosa. Io ti assicuro, alla fine d'estate uscirà un nuovo libro, che si chiama Storie dei due amici, dove io dimostro che molte canzoni, i testi, molti testi sono frutto di luce, tipo emozioni, lui durante un viaggio, a un certo punto ho sentito questo libro che uscirà a sentire solo i due amici, a un certo punto avevamo inciso Sognando la California, ma non sapevamo se avrebbe essere successo, lui aveva lasciato l'orchestra e era andato a abitare a Milano, a Milano in via dei Tulipani a 19, in una casa di una zona popolare, aveva un monolocale, lo andavo a prendere io, lo portavo a casa, passavamo le serate assieme. Durante questo viaggio che facciamo, a un certo punto gli dico, senti andiamo, quanti soldi ti dà la ricordi? 30 mila lire allora, io ne avevo altri 30, avevo fatto un po' di lavoro, un po' di muratore, un po' di qua, ho studiato, ma ero insofferente e lì mi racconta la sua vita e io racconto la sua, mi fermo perché sennò poi continuiamo. Ecco io volevo dire questo, siccome il nostro biglietto la visita dura 20 minuti, io mi sono deliziata di tutto questo racconto e quindi tutte le domande che avevo qui poste, non le ho potute fare perché non potevo io bloccarti. No ma io avviso sempre. E siccome siamo in chiusura perché sono solo 20 minuti, mi regala un altro appuntamento così possiamo continuare perché voglio far vedere anche quello che c'ha dietro di te, dietro c'è un mondo intero che mi piacerebbe che… Lo posso far vedere, guarda, il mondo intero, guarda qua, io e il mio amico Lucio Battisti, qua ci sono con gli indios, questi sono aukas, qua sono a caccia di coccodrilli, non avrei mai potuto immaginare che un musicista di un gruppo di questa portata, dei Dick Dick, aveva una vita a parte così movimentata, così piena di veramente di cultura Ma capirai, non smetterò mai, io sono appena stato in Egitto, è la terza volta, ho navigato sul Nilo, poi sono stato nel Sahara, tu sai che 10 mila anni fa il Sahara non c'era, c'era una giungla, poi ci furono 50 anni di siccità e diventò il Sahara. Va bene, dai. Ecco, allora, vi fa la promessa che la prossima settimana se eravamo ancora insieme? La prossima settimana, sì, vediamo un attimo che giorno, mandami, adesso non so, devo guardare… Sì, sì, va bene. Perfetto. Va bene. Perché allora io per il momento… Come? No, 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 mi mandate, mi chiama per dirmelo prima e… Perfetto. Va bene? Io per il momento ti abbraccio forte perché mi hai dato veramente un mondo diverso da quello che sei. Perché io sì, la musica… Eh, voglio ancora capire le tue avventure della tua vita. Eh, ne ho, guarda. Quindi però ti abbraccio. Ti abbraccio. Ti abbraccio. Ti abbraccio. Va bene. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Un saluto a tutti i miei telespettatori di Biglietto da Visita. Un abbraccio alla prossima settimana. Ciao da me, Silvia Pagni. Ciao da me, Silvia Pagni. Grazie a tutti